Ora, non saputa una nuova da Piero Franchini, le svegliarine che sono? Le svegliarine sono tutte quelle cose che si dicono, che anche te dici via via, per svegliare quelli che dormono, capito? Perché qui noi abbiamo una Italia di persone che purtroppo dorme, e quindi hanno sempre bisogno della sveglia per svegliarli, e quindi sono le svegliarine. Perché se avete visto, c'è voluto il morto al Pionta, per cercare di capire che il Dringoli ora si è preso, ora ci pensa al Dringoli, l'ho visto nel giornale, per ripulire una zona che doveva essere il fiore all'occhiello di Diarezzo, perché il Pionta doveva essere un po' come il Prato, l'antagonista del Prato. Poi, Piazza Guido Monaco, avete visto, c'è voluto le scazzottate, poi 5-6 gazzelle, che tu andavamo lì, il 118, il 189, tutti, chiamavano tutti, perché per capire che bastava fare delle iniziative, però nel senso non c'è le svegliarine, e le svegliarine non ci sono. Poi, dopo, te che volevi dire? Io ti volevo dire che c'è al Dringoli, ieri l'altra notte, quando al Torrino Nefico, che mi chiamarono i miei amici, io pensai al Dringoli con quel sale, che ora non sa se adoperarlo per l'acciughe, se darlo a distribuirlo a commercianti, perché ora c'è il problema del sale e della neve, tra un pochino. Vedi, te sei sempre polemico, possibile ora che il Dringoli, ma possibile che il Dringoli non sa cosa fanno nel sale? Ma non ha saputo che fare al Pionta, sa che fanno nel sale. Ma il sale, prima di tutto si mette anche nel pomodoro, quando si mangia il pane col pomodoro, quindi eventualmente la dopra per quello. C'è l'olio nuovo. E' quell'olio nuovo, giusto, quindi ci sono tante cose per cui adoperarlo, ora c'è la l'acciughe. Senti, allora posso farti i complimenti con me, sia alla Confesercenti che alla Confesercenti, perché avete insieme all'assessore... No, è scoppiato l'amore. Tra voi e l'assessore Macri? No. Tra voi, tra Confesercenti e Confesercenti? Un andare troppo avanti, perché questi amori bisogna pilotarli un pochino, intanto è scoppiato quello a Confesercenti. Dai, è bella questa cosa, che proietterete nei monumenti Aretini, le opere d'arte di Arezzo e Provincia. Sì, io avevo proposto anche una tua fotografia, ma non... Dopo riempiamo in disputa i monumenti. Dopo mi hanno detto no. No, perché volevano fare anche un franco-pollo. Fra una cinquantina d'anni, forse... Volevano fare un franco-pollo come me, ma dopo la gente sputtava dalla parte sbagliata. Ah, ecco, capita che... L'hanno evitato. Dopo l'attaccavano alla rueda. Comunque, io, al di là del fraintendimento che c'è stato probabilmente l'altro giorno con una delegazione, stavo dicendo alla Rita, non avevo visto l'assessore Macri. Schietto e ho detto, dopo la cazzata ricastica Macri ha fatto una cosa bella, ma mi sa che loro hanno sentito solo la prima parte, quindi... Eh, te... Ma io faccio i complimenti. Quando... Come ti chiamava la tua... La mia ex moglie? Gaffettone di Gaffettone. Gaffettone di Gaffettone, ecco. Ti sei uno di quelli, insomma. Però, ecco, dicevo che quando si fanno le cose buone... Certo. E poi, dopo, quando c'è la volontà, soprattutto, ecco, si trovano anche due spiccioli, si trovano anche il sistema di fare le cose. Io, secondo il mio punto di vista, quello che conta è la buona volontà e le svegliarine. Ma noi saremo sempre qui, eh. Ah, noi... No, siamo ad un'altra parte. Noi saremo sempre qui, le svegliarine. Tranquillo che si fanno, eh. Arpenzi c'è. Arpenzi c'è. Gringoli. Gringoli. Gringoli.